Rabat, 25 settembre 2017, il popolo di Faceboiok si indigna per le foto della sposa bambina e la polizia è costretta a intervenire e bloccare la festa di matrimonio. È accaduto a Tatouan, poco più di 400.000 abitanti nel nord del Marocco. Una bambina in abito bianco accanto a un uomo di 27 anni festeggiano le nozze tra la torta, i fiori, gli invitati, i regali, i parenti felici. Le foto e i video, che inondano il web in diretta, sabato sera, sembrano raccontare un matrimonio in piena regola con il salone del Palazzo dei Fiori, albergone da cerimonie in pieno centro, stracolmo di invitati, fino a quando gli uomini in divisa interrompono la cerimonia e rimandano a casa agli invitati. La madre della bambina, ha assicurato che si trattava soltanto di una festa di fidanzamento, una promessa di amore in attesa che la piccola raggiunga l'età giusta per sposarsi, i 18 anni previsti dalla Maudavana, il codice della famiglia riscritto e aggiornato nel 2004. Ha poi detto, che la piccola è consenziente e che nessuno l'ha costretta a fare nulla.